Altro cross di Agostini, pallone buono per Piniglia, Piniglia contro la conclusione, non è finita, Cossu dall'altra parte, Cossu guarda l'area, poi va al tiro cross, respinto, ancora Tiago Ribeiro che va al tiro, non ci arriva Terracciano e Cagliari in vantaggio, 1-0 ha segnato Tiago Ribeiro sul palo che Terracciano avrebbe dovuto coprire, sorpreso da questa conclusione che è passata in mezzo a tante gambe, tutta la gioia dei giocatori del Cagli Ibarbo che entra ancora in velocità, allora diventa pericoloso, però tendono Bellucci, gli va via Ibarbo, Ibarbo dirompente, palla dentro e gol ha segnato Piniglia, ma il mezzo gol va a Ibarbo, Piniglia non esulta neanche perché il gol è praticamente di Vittor Ibarbo ha corso la parte di Ibarbo che accelera ancora, impressionante Ibarbo, Ibarbo, Ibarbo le finte, il tocco per l'arrivey, l'arrivey, salva Seymour, non è finita, Ibarbo e c'è il gol di Vittor, Ibarbo che mette ancora il timbro in una partita contro il Catania, 3-0 Grazie